Italia, amarla o lasciarla? È una bellissima domanda visto che io l'ho lasciata per due anni e poi sono tornata. Ma l'Italia è un paese pieno di contraddizioni, si può amare e si può anche lasciare. Amarla, amarla e quindi restare qui. Però non è dove vedo il mio futuro. Secondo me non amarla e non lasciarla. Non sento molto mio il fatto di essere italiano. Vale decisamente la pena vivere in Italia. In relazione al resto del mondo. Si può raccontare meglio l'Italia forse dalla giusta distanza. L'Italia è un paese straordinario. Però non è un paese per cui vale la pena vivere. Io sono orrendamente italiano, me ne sono accorto vivendo all'estero. Allontanarsi per poi ritornare, allontanarsi per andare a trovare idee creative. Restare e amarla con un spirito critico. Portare qualcosa di bello dell'Italia ovunque. L'appreciazione della bonti della vita che gli americani non hanno. Sono disoccupata, non ho una lira e sto ancora in Italia, secondo voi?